Bene ragazzi, amici delle strade italiane più belle da percorrere in moto, eccoci qui a recensire il nuovo prodotto di Cellular Line, appena ricevuto grazie alla cortese intercessione di Andrea Fiorentini di Interfon. Stiamo parlando del modello Tour che assieme ai modelli Sport e Urban completano la gamma 2016 che ha sostituito la precedente gamma di Cellular Line. Innanzitutto questo si tratta dell'interfono doppio, contiene due interfoni, non so se riuscite a leggerli, è un twin set adatto quindi a pilota e passeggero. La confezione si presenta pulita nel classico formato composto da una copertura esterna più la confezione apribile, trasparente. Andiamo ora ad aprirla e a vedere direttamente con voi, premesso che è la prima volta che la apriamo anche noi, quindi è anche per noi una sorpresa. Dunque vediamo un attimo, abbiamo un primo strato dove abbiamo subito in bella vista i nostri due interfoni che si presentano solidi, molto belli, dal design avveniristico. Dopodiché solleviamo ed ecco l'accessoristica, vediamo un po'. Dunque abbiamo in ordine d'importanza il set compreso i microfoni e auricolari adatti a entrambi le orecchie. Ovviamente set doppio visto che si tratta di un kit doppio. Dopodiché abbiamo i supporti laterali per il casco dotati del tradizionale biadesivo 3M. Una piccola parentesi la faccio a tutti coloro che hanno qualche dubbio sull'effettiva tenuta di questo tipo di biadesivo. Vi assicuro che si tratta di un biadesivo totalmente affidabile, probabilmente se doveste cercare di forzare il distaccamento di qualsiasi oggetto appiccato al casco, che sia interfono o che sia action cam con questo tipo di adesivo, probabilmente prima spacchereste il supporto e solo dopo riuscireste a staccare l'adesivo. Comunque sia, abbiamo detto i nostri doppi set, i nostri doppi cavi USB, i ricambi sia dei velcri sia dei terminali dei microfoni e poi qui abbiamo un oggetto interessante. Abbiamo fatto un piccolo studio prima di effettuare questo unboxing e abbiamo scoperto che questo modello, in particolare il Tour, a differenza degli altri modelli, ha in dotazione anche un battery pack. Questo si tratta di un battery pack per ricaricare la batteria, le batterie degli interfoni in caso di emergenza. Questi interfoni sono dotati di un'autonomia dichiarata molto molto lunga, ma in caso di estrema urgenza, ripeto, ci viene in soccorso questo tipo di oggettino che non è niente male come idea. Inoltre abbiamo, infine, tutta la modulistica, quindi abbiamo la guida rapida in italiano, termini di garanzia e l'elettorio di istruzione in tedesco, in spagnolo, in francese e in inglese. Vi leggo un breve strato delle caratteristiche principali di questi interfoni, in particolar modo del Tour, appunto che è il modello più completo della gamma. Abbiamo ovviamente la possibilità di comunicare con tutti gli interfoni, al di là del marchio. L'accesso diretto alle funzioni Quick Touch, quindi questa è una cosa molto comoda per chi non vuole perdere troppo tempo e vuole avere una comodità di accesso a tutte le funzioni. La portata di 1,5 km in full duplex, quindi un'ampia portata, e la conferenza di gruppo fino a 4 utenti, significa la possibilità di parlare con 4 interfoni contemporaneamente. Questa è una funzione molto molto utile nel caso di gite di gruppo, nel caso di motogiri, in cui abbiamo uno staff che deve mantenersi costantemente in contatto l'uno con l'altro. Abbiamo la riconnessione automatica in caso di disconnessione, l'abbinamento rapido e la possibilità di attivare la telefonata o attivare la comunicazione solo tramite comandi vocali. La regolazione del volume automatica in base a livello ambientale di volume. Ovviamente la condivisione della chiamata tra i due interfoni e la connessione al cellulare, lo smartphone. Abbiamo la possibilità di ascoltare le istruzioni vocali dal GPS, l'ascolto e la condivisione con il secondo interfono della musica, che viene dalla radio FM. Abbiamo un'autonomia dichiarata di 20 ore, che è un'autonomia molto elevata, parliamo un'autonomia in utilizzo di 20 ore, il caricabatterie incluso, come vi ho già illustrato prima, l'app per smartphone. Abbiamo inoltre il grado di impermeabilità, il firmware aggiornabile e i due microfoni, come vi ho fatto vedere. Tutto in una pratica comune. Questo per ora è tutto ragazzi, quindi ci vedremo presto con la prova sul campo dei nuovi Interfon Tour by Cellular Online. Ciao!